Camate, Camate o capo o pango, anche oggi c'è il dubbio ancora di più dopo il promo girato sulla televisione a Australiani questa settimana che rispettosamente ha collocato elettronicamente la borsetta Donal Black impegnato nell'H. Potrebbe essere un'estra motivazione conoscendo lo spirito dei neozelandesi e l'H potrebbe essere proprio un segnale. Bikerman a confronto con l'H e vediamo anche quale sarà l'H scelta dai neozelandesi. E' quella che stia. Camate o pango, ma c'è in questa un modo molto sottile, una battaglia di testa. Gli australiani che li provocano, li schermiscono proprio gli neozelandesi così attaccati, molto più disincantati gli australiani nella loro cultura, nel loro modo di essere. Ma anche lui un pachea bianco Ricci-Mecco che lo fa con quella intensità. Bikerman a confronto con l'H.